Eccoci tornati di nuovo insieme in diretta con Just Today, allora abbiamo il piacere di collegarci con l'Arcidiocesi di Matera Irsina dove c'è per noi Sua Eccellenza Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, Arcivescovo appunto di Matera Irsina, dove da due giorni, da pochissimo, si è concluso il Congresso Eucaristico Nazionale. Buongiorno Eccellenza, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, da pochi giorni si è concluso questo importante appuntamento per la Chiesa Italiana, torniamo al gusto del pane per una Chiesa Eucaristica e Sinodale. Subito, a caldo, facciamo un bilancio di queste giornate ricche di presenze e anche di significato. Sì, sono state giornate davvero belle, intense, piene, di grande spiritualità, di grandi contenuti e devo dire che la presenza di tutta la Chiesa Italiana attraverso le delegazioni, e pensi che ci sono state ben 175 delegazioni delle diocesi italiane e un centinaio di vescovi, è stato segno visibile di una Chiesa in Capitano, e soprattutto la Chiesa Italiana attraverso il Congresso Eucaristico ha rappresentato e rappresenta, se così possiamo dire, la prima tappa che ci conduce all'inizio del secondo anno di questo cammino, verso quello che sto suggerendo agli anni. Eccellenza, il tema del Congresso Eucaristico di Matera, torniamo al gusto del pane, qual è il significato di questa frase? Ma soprattutto che cosa significa tornare al gusto del pane? Teniamo presente che quando abbiamo scelto il tema, la commissione, venivamo proprio dal tempo della pandemia, soprattutto la prima fase, c'è stata l'assenza e anche il desiderio da parte dei fedeli di tornare a celebrare l'Eucaristia in presenza e a gustare l'Eucaristia stessa. E io ho pensato, proprio tenendo presente il pane di Matera, che l'ho definito trinitario e cristologico nello stesso tempo, per come il pane viene fatto, che poteva essere il simbolo che mettesse in evidenza esattamente quello che era il congresso eucaristico, cioè bisogna ripartire dall'Eucaristia e ripartire proprio dalla centralità dell'Eucaristia stessa, in quanto è fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa, come ci insegna il Concilio, ma nello stesso tempo questo ci deve impegnare seriamente nella vita di ogni giorno. È stato questo l'intento, soprattutto, ed è su questo che abbiamo meditato, perché non ci può essere vera Eucaristia se l'Eucaristia poi non viene calata nella vita. Cioè dire in questo, voglio dire, Sampio ci è di grande esempio e ci insegna veramente quale deve essere il rapporto con Cristo e con Cristo e Eucaristia e quale deve essere il rapporto con la vita di ogni giorno, nell'impegno quotidiano. Spezzare il pane sull'altare significa spezzare il pane nella quotidianità. Diciamo che questo è stato soprattutto l'intento e il Consiglio permanente della CEI quando io ho presentato il tutto, l'ha accolto benevolmente e quindi è passato e subito dopo abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo a preparare questo congresso Eucaristico. Ha citato il Santo di Pietrelcina, infatti il congresso Eucaristico di quest'anno si è tenuto dal 22 al 25 settembre, proprio i giorni della festa liturgica del Santo di Pietrelcina. Diciamo che magari non è stata proprio una casualità. Eccellenza, la presenza del Cardinale Zuppi, presidente della CEI, che nei ringraziamenti ha detto che il gusto del pane è passione di ricostruire la comunità lacerata. La presenza di Papa Francesco per la celebrazione eucaristica conclusiva che ha affidato alla Vergine il cammino della Chiesa in Italia e poi ha osato oggi chiedere per l'Italia più nascite e più figli. Queste diciamo le frasi, i contenuti forse più forti. Ma immagino che siano emersi tante riflessioni anche durante le tante catechesi che si sono tenute nelle varie chiese di Matera, in un centro storico, ma non solo, che parla da solo in qualche modo. Sì, intanto io dico proprio perché io sono molto devoto di Padre Pio e quindi a San Giovanni Rotonda ci vengo sempre e almeno una o due volte all'anno dai servi della sofferenza, con i quali Don Pierino Galeone che è stato figlio spirituale di Padre Pio e che vive la sua spiritualità e la trasmette a tutti quanti. Questo ci tenevo a sottolinearlo. Ma devo dire che il tornare al gusto del pane, così come abbiamo sottolineato in più occasioni e in tanti interventi, come giustamente lei ha detto, sia il Cardinale Zutti, sia Papa Francesco, io stesso voglio dire che in questo tempo e in questi anni ho continuamente ribadito questo concetto che sinteticamente, meravigliosamente, in un modo stupendo, appunto, Papa Francesco poi l'ha messo in evidenza. Ma le parole di Monsignor Zutti ci hanno dato veramente quel gusto di ritornare come Chiesa, una Chiesa che è capace non solo di fare rito o di fare delle celebrazioni, ma la vera celebrazione che va fatta nella vita di ogni giorno, quindi nelle realtà significative dove c'è bisogno di celebrare l'Eucaristia, che significa stare accanto, sollevare, aiutare, illuminare, anche il riferimento di Papa Francesco, ad aprirsi di più alla vita e ad accogliere la vita, significa che la vita va servita. Le dico per esempio un esempio concreto. Noi nella preparazione del congresso non abbiamo voluto che fosse solo un congresso per gli addetti ai lavori, abbiamo voluto coinvolgere tutti quanti, tutti indistintamente e anche le stesse ostie che sono state confezionate, le ostie sono venute dall'Emilia Romagna, da una comunità dove c'è il reinserimento dei detenuti, le sacche, le borse per il congresso, ben 3.000 sacche, sono state realizzate dai detenuti del carcere di Matera ed è stato bellissimo il momento in cui subito dopo la messa, alla mensa della fraternità che abbiamo inaugurato con Papa Francesco, lì in quella mensa c'erano con un permesso speciale 8 detenuti che hanno salutato e consegnato anche a Papa Francesco questa sacca. per dire come questa è l'Eucaristia, questo e soprattutto questo stare attenti e vicini alle realtà che hanno bisogno di essere accompagnate perché si ritrovi la vignità perduta e soprattutto si ritrovi la speranza che è di suo vento a portare. Che belle queste sue parole, grazie anche per aver ricordato questa importante presenza, appunto, le ostie che sono state realizzate dai detenuti così come le borse confezionate appunto dai ristretti. In conclusione, eccellenza, so che è una giornata impegnativa questa ma le voglio fare ancora un'ultima domanda. Il Congresso Eucaristico Nazionale si è concluso il 25 settembre a Matera ma non va considerato solo come un evento che adesso si è chiuso fine a se stesso. Può essere considerato un punto di partenza? Esattamente un punto di partenza. Beh, se noi dovessimo semplicemente celebrare un evento e l'evento poi dovesse rimanere lì solamente nel ricordo noi come Chiesa non facciamo dei ricordi noi celebriamo dei memoriali per noi deve rimanere sempre un memoriale che ci ricorda esattamente il cammino che la Chiesa italiana sta facendo come ho avuto modo di anticipare prima per la Chiesa italiana il Congresso Eucaristico rappresenta all'inizio del secondo anno del cammino sidodale il là che ci permette di guardare avanti fiduciosi. Ripartiamo dall'Eucaristia torniamo al gusto del quale. E allora noi la ringraziamo di cuore per essere stato nostro ospite questa mattina la aspettiamo in presenza a San Giovanni Rotondo perché appunto ci ha detto di essere devoto del Santo di Pietrelcina quindi la aspettiamo davvero con le braccia aperte nella città del Santo e grazie davvero di cuore a Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo arcivescovo di Materia Efsina grazie eccellenza e una giornata santa giornata a tutti grazie anche a lei grazie per questo augurio di una santa giornata allora eccoci qui di nuovo insieme in diretta dopo questi due collegamenti abbiamo preso oggi come centro due diocesi del sud ma poi sicuramente anche nelle prossime settimane avremo modo di dare spazio anche a quello che succede in altre diocesi anzi se avete eventi non solo a livello diocesano parrocchiale ma anche se siete delle realtà delle associazioni onlus o altro potete naturalmente segnalarci le vostre iniziative facendo riferimento alla nostra mail infochiocciola teleradiopadrepio.it perché no anche utilizzando il nostro numero whatsapp non abbiamo aggiornamenti significativi no non ce ne sono e allora non so se abbiamo un'altra fascia pubblicitaria chiedo alla regia di aiutarmi perfetto perché abbiamo un po' distorto la scaletta di oggi ma per dare la possibilità ai nostri ospiti di essere presenti allora andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme con l'ultima parte di Just Today e poi di nuovo insieme con l'ultima parte di Just Today e poi di nuovo insieme con l'ultima parte di Just Today